Lisa Del Rio, complimenti per aver vinto il torneo femminile del Milano Rugby Festival. Innanzitutto, qual è stato il segreto per questo successo? Allora, innanzitutto volevo ringraziare le mie compagne perché abbiamo fatto un anno bellissimo. Noi siamo riuscite a vincere il campionato che è ovvero quello a 15, ma in questo Seven abbiamo dimostrato di sapere giocare molto bene. È un rugby pulito, quindi non ho altro da dire. Siamo rimasti veramente molto contenti, anche il nostro allenatore ci ha ringraziato perché le abbiamo regalato tante emozioni in questo campionato e soprattutto in questo torneo ci siamo divertite molto grazie a questo Milano Festival, non mi ricordo il nome, e volevo ringraziare tutti. Però ti do un'altra cosa, allora c'è chi storce il naso per le donne che giocavano a rugby? Cosa rispondi a queste persone? Allora, io tutte le volte che mi dicono questa cosa un po' mi arrabbio perché non è giusto pensare che è uno sport solo maschile, ma è uno sport giocato, cioè noi non giochiamo contro gli uomini, ci confrontiamo contro delle donne e quindi è tutto negli stessi livelli. Ovviamente il regolo femminile è più lento rispetto a quello maschile, però le regole sono tutte uguali, quindi è un sport e noi ci divertiamo. Complimenti e in bocca al lupo per un futuro rosio. Grazie e grazie.